Appena arriva con il ducello e la danza, e pensero io a consegnarle le mani dell'inquisizione. Oh Madonna Santa, voi sapete via questa inquisizione? Ma cosa può essere successo? Non si è mai vista così furiosa? Dicono, ma dicono, che ce l'abbia contrucita perché la posizione che le ha dato per suo genero non funziona. Sì, quella non era per il genero, ma che rimuogo frecche, padre con naso. E tu come lo sai? Lo dice Matilde, no Matilde. Matilde, e la prosiglia non sa che anche quel preparato non era per il marito della figlia, ma per qualcuno che la cartellana non era per sé. E poi qualcuno fa che sia proprio padre con naso. Il padre con naso la evita distrosamente. La giudica alla sua porta dice che lei cerca sempre di trovarsi sola con lui, ma che lui a matine le aggiunge spessamente di, aspetta, come detto, ah ecco sì sì sì, di badare maggiormente a mantenere integra la sua virtù. E, eh, 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 cosa vuol dire? Ah, 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 ah. Ma, un momento, secondo voi, come faccio la vacanza di me da sapere? E le altre pare per un marito della mia passiva come veda? Adaglia E' una masca! E' una macchina! E' una mangiarda! E' una pattugliera! E' una macchina! E' una macchina! E' una macchina! E' una strega! Non è una macchina! E' una macchina! E' una macchina! stesso, non avete bisogno d'altro, lei crede ancora nelle vecchie diaboliche superstizioni del passato, pare che l'abbiano vista parlare ad una fonte d'acqua, c'è qualcosa di strano in lei, e a tutti voi conviene tenervene alla larga, e ora lasciatemi andare in canonica, padre Tommaso vi sta aspettando.